Rapinava donne sole ed anziane ed aveva messo a segno ben tre colpi negli ultimi due giorni in provincia di Arezzo, una alla fermata dell'autobus e due in altrettanti cimiteri. Un vero e proprio scippatore seriale che è stato colto in flagranza di reato ed è finito così in manette. Si tratta di un tretto ottenne Montevarchino. Le vittime del bandito erano tutte persone anziane, una donna di 80 anni scippata della borsa appena scesa dall'autobus alla fermata, una 64enne a cui il malvivente aveva strappato di forza dal petto un crocifisso d'oro nel cimitero di Santa Firmina ed infine una 70enne alla quale il malvivente aveva strappato la borsa di mano all'interno del cimitero di Campolucci. Lo scippatore era stato descritto dalle vittime come un uomo alto e magro e dalla carnagione chiara. Alcuni testimoni inoltre avevano segnalato una Fiat Panda verde con la quale lo scippatore era stato visto allontanarsi dai luoghi dei colpi. Gli operatori della squadra mobile hanno così dato il via alle indagini per rintracciare l'automobile e il suo conducente. Nella tarda mattinata di ieri i uomini della sezione contrasto al crimine diffuso hanno individuato il trentottenne e lo hanno seguito sino al cimitero di Campolucci. L'uomo si è fermato davanti a una tomba come per pregare con uno scatto fulminio si è avventato su una donna poco distante da lui strappandole la borsa. Il malvivente è poi salito in macchina